Buongiorno a tutti e sto per fare un Instagram Stories veramente inaspettato amici Oggi andiamo a fare uno shooting per una capsule collection a cui sto lavorando che è una figata atomica Comunque non so se ve l'ho ancora detto ma senza pagare è il singolo più venduto in Italia da tre settimane consecutive Siamo sul set Uno dei Il primo set questo C'è anche Gai Siamo qui sul set Vi faccio vedere un po' il mood board da lontano che non voglio spoilerare Allora è l'alba di Fine luglio Espitando con un piumino di pelo addosso ed è tutto bellissimo Un tutorial su come fare le Converse Vintage Vintage by Peles Eccole Ecco la nuova borsetta del PA Non porta niente però Non porta niente Lei come la chiamerebbe questa nuova Il portascella Sostituisce il borsello Eh ma il diamantino Prima ho detto che sono da tre settimane che siamo il singolo più venduto in Italia In realtà mi sbagliavo perché sono quattro settimane Temporale in arrivo Stiamo cercando di riprendere dei fulmini Chissà se beccheremo mai dei fulmini Oh mio Dio un fulmini Oh mio Dio un fulmini Prima di erano riusciti a puntare la luna Poi sono arrivato io e sono inciampato su questo E ho spostato tutto Ecco raga Già mi aveva detto sette e me Ecco la luna In un quarto Sette Sei riusciti a puntare la luna L'hai preso? Fammi vedere Cioè guardate è incredibile Scattata da Chiara Ferragni Mamma mia Mettela a me Guarda Non riesco a farla vedere Ecco la luna Eccola lì Ragazzi è appena puntato Saturno C'è la cosa per guardare Saturno Se volete venire a casa mia Ci tofolate e venite 5 euro e potete vedere Saturno Quanto entusiasmo finto per le Instagram stories Nessuno lo fa con me Canta amore, senza regole, canta, canta, canta amore, canta amore, canta amore, amore, faccio un tuffo per due ore, bevo birra con limone, no amore dai, canta, canta la tua, canta la tua, canta la tua, amore, ma cosa sono, ma cosa sono, un cloud, un jukebox, è la tua canzone, canta, rape it boy, almost rape it,